Il calciomercato dell'Atalanta quest'estate è sembrato il calciomercato di una squadra matura, che ormai ha assimilato il proprio modo di operare trasferimenti e di far crescere in maniera sostenibile la squadra. Hanno ceduto Gollini e Romero per fare cassa, ma hanno innestato al loro posto due giocatori di altissimo livello come Musso ed Emeral, che permettono di non compromettere la qualità della squadra. E allo stesso tempo sono arrivati rinforzi interessantissimi a dare maggiore profondità alla Rosa. Da Lovato a Zappacosta, da Giuseppe Pezzella a Teun Copminals, un giocatore che ha la potenzialità di diventare la vera grande sorpresa targata dea di quest'anno. E nonostante le sirene di mercato non si sono avverate le paventate cessioni di Zapata e Ilicic. Perché per l'Atalanta nessuno è indispensabile, ma per Cassi ha saputo cedere solo quando aveva già pronto il sostituto giusto. Ecco, non riusciamo veramente a trovare un difetto alla finestra di mercato dei bergamaschi. Forse hanno annusato un vuoto di potere e la finestra di calcio mercato dei bergamaschi è quella di una squadra che vuole puntare dritta a un obiettivo forte quest'anno.